E passiamo alla categoria telefilm italiani, le nominations sono Big Man, Canale 5, i ragazzi della terza C, Italia 1, Rally, Rai 1 Signori, premia anche qui un grosso personaggio che è venuto da lontano, piace molto alle donne è un attore veramente molto in gamba, protagonista della famosa serie di telefilm Supercar Quindi tutti certamente avrete capito che intendiamo parlare di David Hasselhoff Thank you Hi, I'm better now, how are you? Nice seeing you Hello Congratulations Thank you very much I understand you're a good singer too, is it true? Yeah, I've got a song coming out on the charts hopefully next week here in Italy Looking for freedom Tant'è vero che io avrei piacere di ospitarlo nella mia trasmissione la prossima settimana I would like to have you as my guest on my show next week, telemic Thank you very much Would you like to be a guest? Grazie, I'll be there Ok, gli vuoi chiedere se costa caro? Are you expensive? I'm expensive? I don't know Non so For you? Depends on how much For the movie Ok, it's a promise then Yes, it's a promise Allora, amici ascoltatori, questa sera non lo possiamo far cantare Ma non questo giovedì, quello dopo lo faremo cantare nella mia trasmissione telemic What's the title of the song? You will sing Looking for freedom Looking for freedom Cercando la libertà Cercando la libertà Bene Allora, signori, vediamo un po' di far leggere a questo illustre ospite Cercando la motivazione E vediamo un po' chi andrà a questo premio He's a big Italian? Ma Italian, no Volevo fare una serie de super car in Italia Ma non mi sono messo d'accordo con Minister Ferri Con Minister Ferri Ah Ha ragione Ha Ha Sarà molto ridículo Bene Bene Ok We would like to know who is the winner Ok, will you open And the winner is? The winner is? Big man Big man Canal 5 Canal 5 Big man Did you get a premio, Bob Spencer? Bob Spencer De la Signore Con inizio la serie Dei pezzi massimi Bob Spencer Benvenuto, ben tornato tra noi Congratulations He's a great athlete, as you probably know I am born in Naples Nato a Napoli E quindi parla napoletano E parla napoletano Why do you speak English? Pleasure Allora Consegniamo il telegatto Ecco, tutti voi certamente sapete che oltre ad essere un bravissimo attore, lo è diventato per caso direi, è stato uno dei nostri grandi campioni di nuoto Quante Olimpiadi hai fatto? Due Olimpiadi Due Olimpiadi E poi ho letto sul giornale che tu hai un piede enorme Che numero hai? Vorrei ringraziare il pubblico Voglio ringraziare per questo premio che è il primo dopo 22 anni di carriera che ricevo in Italia Bravo Grazie Hai visto, te applauso Grazie All'Americano He's a great man Ok Grazie veramente Buona fortuna Grazie a Bob Spencer Complimenti Complimenti Signori, ringraziamo anche David Grazie Ciao I'll see you next Thursday Ciao Ricordatevi l'appuntamento con lui, avremo modo di parlare più a lungo